Oggi parliamo nell'ambito dell'angiologia e dell'insufficienza venosa della carbossi terapia che è un ottimo ausilio terapeutico per quanto riguarda l'insufficienza venosa. In che cosa consiste? Consiste nell'immissione di anidride carbonica nel sottocutaneo attraverso una macchina, con le garanzie c'è ovviamente, che controlla tutto quanto riguardo a questo gas quindi la temperatura, la sterilità, il flusso in maniera tale che siamo informati esattamente di tutto quello che accade in ogni momento e che dà un margine ottimale di sicurezza e l'immissione di gas appunto. La anidride carbonica procura un miglioramento, devo dire, eccezionale per quanto riguarda la vascularizzazione e l'attivazione anche del sistema linfatico, per cui va benissimo e fa ottenere degli ottimi risultati sia nell'insufficienza venosa che nei problemi di linfostasi.